...e questa classe 1297, in forma prima di Porto Solano e poi la regia della realtina Matera con cui ha giocato in Serie B. Ha partecipato nel 5 anno la rappresentativa regionale di Pintueta Capitale, un dinistro di Montastello che chiude il cerco, il cerco del mondo di Mr. Fausto Sperpetti, ma il numero 2, Midolas Petagallo. Grazie a tutti!